Sanare le ferite del passato e guardare al futuro con speranza e fiducia. È imminente la partenza di Papa Francesco per il suo settimo viaggio apostolico nello Sri Lanka e nelle Filippine. Per immergerci nell'atmosfera del secondo pellegrinaggio in Asia del Pontefice, abbiamo incontrato il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin. La missione della Chiesa in questi due paesi, nelle Filippine e nello Sri Lanka, è la missione della Chiesa in tutto il mondo, che è quella di annunciare il Vangelo, di proclamare la buona notizia di Gesù, che è fonte di vita e di speranza per tutti gli uomini, tenendo conto naturalmente del contesto nel quale si trova a vivere e ad operare. Un contesto caratterizzato da una molteplicità, potremmo dire quasi da un mosaico di società, di culture, di religioni. Ecco, sappiamo che il continente asiatico è la culla delle grandi religioni del mondo. Nello Sri Lanka, purtroppo, le differenze etniche e religiose continuano ad essere motivo di tensione, tanto che nel paese si è sviluppato un fondamentalismo buddista. Qual è in questo scenario così complesso la missione, il compito dei cristiani? Beh, a me sembra che se c'è un luogo dove si deve parlare di una funzione di ponte, è proprio, ecco, nello Sri Lanka, ed è proprio della Chiesa nello Sri Lanka, anche perché la Chiesa è facilitata in questo suo compito dal fatto che raccoglie membri, raccoglie fedeli da entrambe le etnie principali, sia dai tamil che dai cingalesi. E quindi la Chiesa conosce un po', diciamo, quello che c'è, ecco, nel cuore di ognuno e conosce anche le aspettative e quindi può veramente svolgere questo compito, questa funzione di riconciliazione, di dialogo. Seconda tappa del settimo viaggio apostolico di Papa Francesco saranno le Filippine, a maggioranza cattolica, come valorizzare questa giovane Chiesa dinamica? Ecco, credo che la valorizzazione passa attraverso il riconoscimento del ruolo che la Chiesa nelle Filippine ha, sia nel contesto, diciamo, asiatico e del sud-est asiatico, sia nel contesto mondiale. Le potenzialità di evangelizzazione della Chiesa nelle Filippine sono molteplici. Ecco, l'importante è che la Chiesa nelle Filippine accolga anche questo messaggio e questo impulso dato da Papa Francesco ad essere davvero una Chiesa in uscita, ecco, una Chiesa che sente questo compito di evangelizzazione, di annuncio del Vangelo. Il tema del viaggio sarà misericordia e compassione, Papa Francesco le testimonierà e le invocherà per le vittime del tifone, ma anche per quanti soffrono per la povertà, corruzione, violenza. Sì, sì, questo è un po', diciamo, il tema del viaggio, mostrare compassione, mostrare misericordia nei confronti delle tante persone che soffrono, che soffrono per le calamità naturali, ecco, soprattutto nelle Filippine, che soffrono per ingiustizie strutturali, come sono la povertà e la corruzione che lei ricordava, che soffrono anche per le conseguenze ancora vive del conflitto, ecco, del conflitto civile. E una misericordia e una compassione che guarisce, ecco, in un primo tempo, quindi è questo un po' il senso, no, del Papa, la presenza del Papa, ecco, portare un elemento, una dimensione di guarigione, ecco, e di conforto in questa situazione. E nello stesso tempo credo anche, proprio perché la misericordia e la compassione sono sempre elementi, come dire, attivi, ecco, richiamare tutti a dare il proprio contributo affinché queste ferite possano essere rimarginate e questi dolori possono essere confortati e soprattutto che si possano superare le cause che li hanno provocati.